segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te che questo sia il nostro sia un paese con meravigliose qualità ma dove mediamente le persone si detestano come mai perché forse all'arte della diplomazia è succeduta l'arte dell'ipocrisia per cui si detestano in silenzio che è ancora peggio e quindi insomma forse soltanto nei talk show spesso si assiste a come dire a conflitti non al tuo non al suo cioè il conflitto esce fuori in televisione se no una sensazione sì sì che si abbia bisogno anche quando vedo vedo le persone che vanno a cercare degli spezzoni di talk show su youtube e quant'altro si fermano sempre se leggono la parola scontro scontro tra e poi partecipano e poi partecipano lasciamo perdere guarda che la storia dei social penso che siano delle cose più terribili di quest'epoca io non sono social l'unico profilo che c'ho è questo e me lo tengo stretto diciamo